ciao a tutti da fabrizio salvati della speedy brain il vostro consulente e commerce amazon allora continuiamo a parlare di posizionamento organico e di quello che significa il posizionamento dopo il lancio ed i risultati che si possono raggiungere voglio far vedere un altro caso veramente eclatante in questo breve video perché ripeto stiamo o testo ottenendo risultati straordinari ok però prima che cosa dovete fare mettere subito un bel like a questo video iscriviti al canale con campanellina e ovviamente se volete commentate questo video ragazzi sono un po rinutante anche nel passato sono stato sempre un po rinutante a farvi vedere risultati cose clamorose perché lasciano un po il tempo che trovano però ultimamente con il mio metodo dei chi performance indicator dell'analisi di mercato sto ottenendo dei risultati veramente straordinari voglio far vedere un altro lancio ovviamente al di là del successo del lancio che ottengo con il mio metodo dove veramente si lancia con pochissimi giveaway e in maniera chirurgica vi voglio fare vedere questo risultato veramente eclatante ottenuto senza fare ppc quindi assolutamente senza pay per click ed è un risultato direi abbastanza sconvolgente ragazzi ve lo voglio far vedere ora vado in condivisione schermo considerate ripeto che l'ho ottenuto assolutamente in brevissimo tempo su un prodotto soprattutto che ho scelto io l'ho fatto l'ho cercato con la mia tecnica di ricerca di mercato ok ecco qui ragazzi allora innanzitutto posizionamento nella top 10 dopo una settimana con l'85 per cento delle keyword basta che fate 57 mila e 3 diviso 67 mila cento per cento e vedrete che c'è un posizionamento del dell'85 per cento ragazzi sul praticamente sulle top 10 quindi come search volume ok risultato straordinario conseguito in una sola settimana come vedete qui ci dovrebbe essere il posizionamento organico delle ppc non c'è ragazzi perché non sto facendo ppc su questo prodotto quindi risultati ragazzi veramente veramente super eclatanti perché vi faccio vedere questo perché se volete fare il lancio con me ma soprattutto se volete ricercare i prodotti tramite la mia nai se volete darmi questo servizio di analisi di mercato ricerca di questo tipo di prodotti che ragazzi dieci volte 9 volte su 10 il lancio va alla grandissima e soprattutto il prodotto inizia a vendere nove volte su dieci senza alcun problema l'unica l'unico prodotto su dieci che non può essere magari venduto non è che non viene venduto e che viene venduto meno degli altri quindi che succede che magari viene rivenduto al costo si rientra della cifra investita e si sostituisce con un altro prodotto quindi il risultato che sto avendo ragazzi è pari praticamente al cento per cento tra lancio con super ottimizzazione si ospiti brain più l'analisi di mercato di performance indicato ragazzi sbagliare sbagliare è quasi impossibile quindi se mi volete contattare qui ragazzi per prenotare il servizio di ricerca prodotto con i key performance indicator vi do l'analisi di mercato vi do il prodotto italiano europeo con l'analisi di mercato e la fabbrica ok per una cifra ragazzi che ancora molto molto esigua fra pochi aumenterò il prezzo perché ci si deve lavorare tantissimo lo sto facendo solo per farmi una massa critica di persone che sta ottenendo risultati eccezionali in modo che poi queste persone possono parlare su youtube su facebook del sottoscritto quindi contattatemi se volete possiamo fare un percorso dalla a alla z dalla ricerca del prodotto con analisi di mercato ottimizzazione se io lancio ottimizzazione ppc insomma gestiamo tutto insieme io e voi io direttamente ragazzi senza delegare a nessuno dalla alla z quindi contattatemi di corsa stiamo ripeto ottenendo risultati eccezionali ok quindi sarebbe veramente un peccato non sfruttare questa occasione visto insomma quello che si vede in giro ragazzi è veramente imbarazzante tanto lo sapete chi è che ha comprato corsi corsetti si è fatto seguire da altri gruppi da altri tutor ragazzi e non tanto lo sapete quello è inutile che ve lo dico fate il confronto confrontate la mia professionalità con quella degli altri soprattutto i risultati che gli altri stanno raggiungendo che se frequentate quei gruppi sapete bene che fanno acqua da tutte le parti quindi contattatemi con fiducia ovviamente io non posso fare miracoli è cioè se venite già con prodotti che avete preso da altre parti eccetera io ve li posso lanciare vi posso aiutare al cento per cento per cercare di limitare i danni ma se il prodotto ragazzi non va e non va io posso aiutarvi magari a rivenderlo rifarvi i soldi per investire in un altro prodotto quello sì però ragazzi è dura ok quindi affidatevi fin dall'inizio al sottoscritto non fate come la maggior parte che viene da me solo quando è troppo tardi provenendo dai soliti gruppi dove ne succedono un po di cotte e di crude informatevi prima ragazzi sulla professionalità e vedrete che poi non è poi di così difficile ok scoprire le cose quindi contattatemi con fiducia e mi raccomando iscrizione al canale con campanellina tanti la ci vediamo il prossimo video power